Quando ho firmato alla Juve c'era Andrea, il presidente, Paratici, Marotta, eravamo in sede, il presidente ha detto Pat l'obgettivo è di uscire dei gironi, no vincere il campionato e uscire dei gironi, perché l'anno prima non erano neanche usciti dei gironi, ma stiamo scherzando, il campionato si lo vinciamo, però almeno andiamo in semifinale. E se non ho messo a ridere, mi hanno guardato se non ho messo a ridere, ma tranquillo Evra, sai qua, va bene. E mi ricordo il quarto di finale contro il Dortmund penso, ho detto a tutti i giocatori della Juve, stiamo facendo il riscaldamento, ho detto ragazzi andiamo in finale. E Arturo Vidal mi ha detto ma si è messo a ridere, ho detto ma Arturo ma quante partite c'è il champion? E tutta la gente si è messo a ridere. Comunque io ho creduto a questo dal primo minuto quando sono arrivato alla Juve. Comunque io ho chiuso a ridere.